Sarà un'orchestra sinfonica ad eseguire le tradizionali marce funebri pugliesi legate ai riti della settimana santa di Bitonto, Molfetta, Ruvo di Puglia e Taranto. Una versione innovativa caratterizzata da sonorità e atmosfere differenti da quelle della tradizione bandistica. L'unione tra queste due forze musicali si concretizzerà con il concerto sinfonico Passione Puglia quando l'orchestra incontra la banda in programma nella chiesa di San Domenico questa sera alle 20 e aprirà ufficialmente il programma 2022 di eventi culturali e riti processionali della settimana santa a Bitonto. Dopo due anni di assenza tornano i riti della settimana santa, siamo molto contenti di ospitare questo concerto sperimentale da un certo punto di vista, qui a Bitonto, unica tappa di questo progetto. Il progetto musicale è frutto della collaborazione tra il maestro Vito Vittorio De Santis, direttore del concerto bandistico Davide Delecese e il maestro Giacomo Piepuri, direttore artistico dell'orchestra filarmonica pugliese, è promosso e coordinato da settimana santa in Puglia e realizzato anche con il contributo del comune di Bitonto. L'emozione è forte soprattutto da parte, questa volta, degli stessi professori d'orchestra perché la mission dell'orchestra filarmonica pugliese, sin dalla sua fondazione, è quella di portare il suono pugliese in tutti i comuni della Puglia e anche oltre, che sperimenta questo, un nuovo modo di intendere le marce funebri in versione sinfonica, con un'orchestra sinfonica composta da archi e fiati e percussioni, quindi non solo fiati e percussioni come siamo abituati a sentirle. E' un esperimento, è uno esperimento che rende orgogliosi noi per averlo prodotto per la prima volta grazie all'intuizione del maestro De Santis e l'invito che noi abbiamo voluto accogliere soprattutto per adempere a quello che è la nostra mission, il nostro focus, che è quello di diffondere il vero suono della Puglia tramite l'orchestra filarmonica pugliese. Il programma del concerto comprende una marcia funebre per ciascuno dei quattro paesi che vantano riti e tradizioni della settimana santa, tra i più caratteristici in tutta la Puglia. L'orchestra sinfonica pugliese seguirà le marce di Pasquale Larotella, Luigi Rizzola, Angelo Inglese e Antonio Amenduni, con la direzione di quattro differenti direttori d'orchestra che hanno anche curato l'orchestrazione dei brani. Il ruvese Gianni Minafra, il molfettese Angelo Inglese Junior, il bitontino Vito Vittorio De Santis e il tarantino Giuseppe Gregucci. E' un concerto unico nel suo genere perché abbiamo pensato di attuare questa manifestazione come preview del Festival Flattatum. Il Festival Flattatum è un festival bandistico della città di Bitonto e questa volta abbiamo deciso di sperimentare con l'orchestra. Quindi, siccome a nostro avviso le marce funebre sono una questione emozionale, si è pensato di chiamare dei direttori autoctoni del proprio territorio che potessero interpretare al meglio, col giusto pathos, queste musiche della passione al fine di sdoganarle da un pubblico, diciamo, legato ai riti di pietà popolare e aprirlo per far sì che vengano apprezzate anche da un pubblico, diciamo, colto però tendenzialmente estraneo a certo tipo di musica, diciamo così. Per accedere in chiesa e assistere al concerto Passione Puglia è necessario essere in possesso del Super Green Pass e acquistare il biglietto d'ingresso al prezzo simbolico di 2 euro interamente devoluti all'emergenza ucraina.